Siamo sulla Catania Palermo della Grimaudi e stiamo praticamente avvicinando alle olie, in navigazione da questa mattina alle 7 e mezza, una giornata in venta di sole con pranzo a bordo, ecco qui c'è Lorenzo, come va Lory? Bene bene, fai un passo indietro, fai un passo indietro, fai un passo indietro, buonasera Siamo tutti i voci colponerati di Fabio Mello che oggi si celebrerà sulla spiaggia Ma stai indietro? Povero Fabio Mello Ma chi è questo Fabio Mello? Non lo so, ma chi è? Era un mio grande amico Ma stai più un passo indietro se non ti posso riprenderti? Siamo Fabio Mello Ma non devi guardare l'obiettivo, non devi guardare l'obiettivo, devi essere disimpolto Vedete quella montagna raggiunta? Quale? Quella Quella, dov'è? Po Non c'è nessuna montagna Comunque si incomincia mentre a vedere le olie Oh, vediamo pure di sbarcare C'è Catania che ci aspetta Chi ci aspetta? Catania è il nostro Sogno catanese Grazie